Lei com'è, la regina? Incantevole. Perché è pallida. Come lei. Pronto? Sì, metti il Dior giallo. Perché il giallo enfatizza il contrasto con la tua carnagione. No. No, Megan, non transigo. Metti il Dior giallo, ho detto. Era quella Megan? Sfortunatamente sì. Oggi vogliono essere influencer, eppure non hanno idea di come si abbinano i colori. Lei mi chiama almeno 25 volte al giorno per consigli di bellezza. Pensa che io sia gay. E... lo è? togno! No, mamma, mamma. Grazie a tutti.